Due turisti cinesi, sono due casi accertati, ripeto, di coronavirus. Le voci hanno iniziato a girare da stamattina. Rimanere nelle proprie case. La Covid-19 può essere caratterizzata come una pandemia. Sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l'espressione Io resto a casa. Devo dire che mi è venuto un brividino, è veramente bello. La settimana, sembra che sia ascessa la sera. Nei prossimi mesi dobbiamo gettare le basi della ripartenza del paese. No. 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 No me! No me! No me! No me! No me! No me! I can't breathe! Black Lives Matter! Black Lives Matter! If you're with us, stay with us, baby! Stay with us! No! 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 Ma adesso non mi vado a dormire, sono appena svegliata! Qui di fronte a due le picche c'è un ragazzo che è stato menato, per favore potete venire! Fermiamoci a riflettere! Creavano due film per loro! Una attacca terrorista islamista. E' chiaramente la Francia che è stata attaccata. We did it! We did it Joe! La città è il lutto. Ci ha dato tutto. Maradona ha preso Napoli come seconda madre. No! La chattita del nostro corno per ora! Per la chattita del nostro corno per nuovare. Ops! No! No! Lo so. Lo so. Lo so. Lo so. Lo so! Lo so! Lo so. Lo so! Lo so! Today, il nostro comitato di humana, la CHMP, ha raccomandato una autorizzazione condizionale di marketing per la prima vaccinazione di Covid-19 per il mercato europeo.